Il vero bilancio andrà fatto sugli ordinativi, ma la prima impressione è positiva. Buona affluenza di buyer internazionali tra gli espositori aretini presenti a Vicenza Oro January, che chiude la settimana di esposizione con 33.000 visitatori da 120 paesi del mondo. Massiccia la presenza di compratori da Europa, Medio Oriente, America e Asia, sottolinea il coordinatore della Federazione Orafi di Confartigianato Arezzo, Paolo Frusone. A frenare l'entusiasmo della vigilia erano stati i timori per l'incertezza degli operatori commerciali degli Emirati Arabi circa l'applicazione della nuova tassazione sulle importazioni di oreficeria. Pur mantenendo un atteggiamento prudente sugli ordinativi, che andranno confermati nelle prossime settimane, spiega Frusone, gli operatori commerciali arabi hanno visionato i nuovi campionari e intavolato contrattazioni con gli espositori. Le difficoltà degli Emirati, tuttavia, sembrano aver favorito altri mercati dell'area, come il Libano, la Turchia o i paesi africani. Un dato confermato dai dati statistici sui primi nove mesi del 2017. A fronte di una diminuzione di circa 20 punti percentuali nell'export verso gli Emirati Arabi, le commesse verso la Turchia sono aumentate del 39% e addirittura del 175 quelle verso il Libano. Percentuali di crescita a tre cifre si registrano anche per Egitto, Senegal e Marocco. In ambito europeo, ad aggiudicarsi le fette più importanti dell'oreficeria retina sono Spagna, Germania, Portogallo, Grecia e i paesi centro-orientali, oltre che la Russia. Il trend positivo evidenziato negli ultimi due anni verso gli Stati Uniti, con un più 35% delle esportazioni, sembra confermato dalla forte presenza americana a Vicenza, seguita da Messico, Panama e Canada. Accanto ai buyer di Cina e Hong Kong, diventato il secondo mercato per l'azienda eora fiaretine, viene segnalato un discreto interesse anche da Corea, Vietnam e Thailandia.